Sei proprio sicuro di ciò che fai? È solo penicillina, George. Mi dovresti ringraziare. Ho dovuto vedere qualcosa di poco piacevole. Avrò gli incubi per una settimana. Ok, lasciamo perdere. Ti vuoi tenere la sifilide? Tira giù e chiudi il becco. Non ci posso credere. Meredith, vattene! Oh, George, non ti serve supporto morale? No, no, niente supporto morale. Sono indisposto. George, non è mica una tragedia. Hai proprio un bel culetto. Chi è un bel culetto? Vuoi vederlo? Secondo me non la sai fare. Accomodati. Cosa? Alex! Alex! Ehi! Che combinate? Fiaccano il mio spirito. Gli curiamo la sifilide. Io odio gli aghi. Meno male che sei un dottore. L'altra natica. Easy? Sì? L'intervento al signor Franklin è fissato per il pomeriggio. Che combinate? Stiamo salvando George da un futuro costellato di piaghe purulente e di pazzia. Bel culetto. Già detto io. È come quello di un bambino. Io ho trascorso ore, giorni, anni, a immaginare di stare mezzo nudo in una stanza con tre donne. La realtà è ancora meglio. Sta quasi singhiazzando. Ma? No? No? Podearrini o corso, giorni, anni. Perfino? Grazie a tutti.